Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera, bentrovati. Alfonso Colucci cosa ne pensa? Guardi, io trovo le dichiarazioni di Elon Musk assolutamente gravi, una gravissima ingerenza, anche perché il loro contenuto è un contenuto che riguarda direttamente la democrazia italiana. Qui si parla di autocrazia, si parla di giudici che dovrebbero essere messi fuori, quindi minano il fondamento democratico del nostro assetto costituzionale. Il problema è che Elon Musk non è un privato cittadino, come erroneamente dice Capezzone, è un attore politico, sia per come ha partecipato e contribuito alla campagna elettorale di Trump e sia per il ruolo strategico cui è stato nominato nella futura amministrazione. Ora mettiamoci d'accordo su questo, l'idea di fondo, dottor Del Debbio, è che chi ha i voti dei cittadini possa fare quello che vuole, che cioè si sia superiori alla stessa legge. E si dimentica un principio fondamentale che tutti siamo soggetti alla legge, siamo soggetti alla legge noi, così come sono soggetti alla legge i magistrati che la applicano, così come sono soggetti i cittadini, le istituzioni democratiche di questo paese e, mi permetto di dire, finanche Giorgia Meloni. Quindi, attenzione, noi dobbiamo difendere la nostra democrazia. È quello che fa davvero specie che dopo le illuminate parole del Presidente della Repubblica l'Italia basta a se stessa, bada a se stessa, non sia seguita una chiara e netta presa di posizione da parte della Presidente Meloni. Noi sappiamo quali sono i legami di Giorgia Meloni con Elon Musk. L'abbiamo visto partecipare ad Atreio, l'abbiamo visto in un rapporto di intimità e di, mi permetto di dire, amichettismo con Elon Musk. E allora è bene che chi rappresenta una delle massime... Che differenza c'è fra amicizia e amichettismo, scusi? L'amicizia è un sentimento spontaneo, l'amichettismo è un rapporto di interesse che strumentalizza... E lei che ne sa che rapporto c'è fra Musk e la Meloni? E lo vediamo per il fatto che la Meloni non ha preso una chiara posizione nei confronti di queste dichiarazioni così gravi come avrebbe dovuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio. E questo è amichettismo, questa è compiacenza ed è inammissibile da parte del Presidente del Consiglio. Mi ha risposto con chiarezza. Senta, tra l'altro lei è stato in Albania, se non sbaglio. Io sono tornato dall'Albania notte scorsa. Ecco, e allora qual è la situazione? Ah, guardi, la situazione... Secondo lei? La situazione, io quando sono entrato in questo centro albanese, ho visto una struttura imponente, una struttura per la cui realizzazione noi abbiamo speso una montagna di soldi. Questa struttura, quando ci sono arrivato io, era assistita da centinaia di persone, tra agenti, personale accessorio, per le pulizie, per l'assistenza, per gli strumenti informatici. Tantissimo personale, sono costi, con solo sette migranti nel momento. E questo davvero mi ha vivamente impressionato, perché mi ha dato l'idea chiara dell'enormità di somme di danaro, che sono le tasse dei cittadini italiani, che questo governo butta in Albania per una mera propaganda di natura politica. Perché è evidente che questo protocollo è un flop, è una presa in giro. Diciamolo chiaramente ai cittadini italiani. Chiarissimo, chiarissimo. Andiamo dal rappresentante del Movimento 5 Stelle, Alfonso Colucci, per sentire come la vede. Guardi, le dico con molta semplicità e fermezza, l'indicazione di Fitto non è nell'interesse nazionale. Non è nell'interesse nazionale per una serie di ragioni. Il Ministro Fitto ha dimostrato un'incapacità nella gestione delle risorse del PMRR. Quei 209 miliardi portati da Giuseppe Conte, dal Presidente Conte all'Italia. Una incapacità, nonostante l'Italia abbia già riscosso molte tranche del PMRR, vede l'Italia indietro nella realizzazione dei progetti strategici. Una incapacità del Ministro Fitto, che tra l'altro trova conferma nel fatto che il Ministro Fitto, quando si trattò di votare il PMRR, quindi 209 miliardi di Giuseppe Conte, si astenne per ben cinque volte. D'altra parte, guardi del debbio, l'incapacità di questo governo di amministrare risorse pubbliche è dimostrato dal fatto che butti al mare un miliardo di euro nel protocollo dell'Albania. Sono soldi che servirebbero in Italia anche per la sicurezza degli italiani. Andrebbero le forze dell'ordine che io ho trovato visitando i centri in Albania. Avrei volute trovarle nella stazione di Milano, nei quartieri dove la sera le ragazze e le signore non riescono ad uscire in sicurezza. Un miliardi illegali che poi volete fare entrare, il problema delle stazioni non c'è assolutamente no, noi siamo per un'immigrazione legale e vigilata, ma per questo le risorse vanno spese bene, non buttate a mare come state facendo in Albania. Un miliardo di euro, sono le tasse degli italiani, sono i servizi degli italiani, un miliardo di euro. Allora, se Elon Musk ci sta seguendo e organizza anche i viaggi su Marte, possiamo informarlo che noi su Marte ci siamo già, perché abbiamo un simpatico rappresentante del Movimento 5 Stelle, cioè il partito dei banchi a rotelle. Guardi, la simpatia se la tenga per lei. Chiedo scusa, non mi interessa essere simpatico, se la tenga per lei. Allora, l'antipatico rappresentante, ha ragione, l'antipatico rappresentante, parli in maniera corretta, non si permetta. Va bene, l'antipatico rappresentante del Movimento 5 Stelle era una cosa che ci parla di conti pubblici essendo il partito dei banchi a rotelle e del super bonus che ha sfasciato il bilancio. Queste sono stupiraggini. Fermo. Poi il partito che ci parla della competenza avendo mandato Di Maio a fare il rappresentante del Golfo, che al massimo è il Golfo di Napoli, conoscete. Ma lei, ma pensa che gli italiani siano scemi. Ma lei pensa di prendere in giro gli italiani con queste battute? No, voi l'avete fatto per... Lei pensa di interessare qualcuno, ma parliamo seriamente. Ma non si permetta, capezzone, ma la prego. Posso? Parliamo seriamente. È vero. Voi, nella legislatura precedente, avete fatto un governo con la Lega, un governo col PD e la Lorenzine, un governo con Draghi. In tutte le posizioni del Kamasutra avete governato abolendo una sola povertà, la vostra, perché ora vi presentate col vestitino... Ma non si permetta, ma non si permetta, ma non si permetta lontanamente. È lei che fa una bassa propaganda travisando il suo ruolo di giornalista. Lei dovrebbe fare il giornalista, ma non si permetta.